buongiorno io torno a dormire siamo all'esclusivissimo compleanno di federico vai noto della preoccupazione allora oggi ho portato le off white e giustamente perché fra fashion blogger ci si odia mi ha rovesciato un drink sui piedi grazie grazie volevo farvi sapere che si sono i più italiani che sono i più italiani italiani ricaccia hanno promesso gianni gianni non c'è auguri bene un cazzo di frenisi per FEDERITO perfetto venti sei in Italia per fare qualche volta creduto che fosse possibile non ho più niente hai avuto il zocca, zio ho scopo di discesi è arrivato mica, mi fanno cantare specchio, ho avuto il tuo gatto, non ero una ricca è appunto vai grazie a tutti